Ho fatto una gran baza perché ti mette a posto l'abbigliamento per la pesca Ti può interessare questi cursori che a me non servono più? Potresti fare delle cose carine Oh cavolo, sai che mi è molto una gran idea? Che idea? I cursori, delle cerniere, dei jeans come mini cucchiaino da extra light Ce n'è di tutte le misure, c'è anche giallo che forse nell'acqua galleggia bene No, galleggia non galleggia, è ferro, però può andare bene come affondante Giallo, blu, bianco, verdone Ma gran baza della mamma che partecipa al canale di Full Tamer Pesca Saluta, va là Adesso mi hai mandato una bella idea, ciao Ok ragazzi, un saluto ovviamente da Full Tamer Pesca Sinceramente parlando io non ho mai visto nel web pescare con i cursori E l'idea me l'ha data ovviamente mia madre che è una sarta Perciò adesso vi faccio vedere come procedere Ovviamente dopo ci saranno le prove sul campo Vediamo se riusciamo a ingabanare qualche microbus Qualcosa del genere, vediamo Molto semplice, avete delle cerniere rotte, nessun problema Diventate Praticamente diventa questo Vedete? Non so se riuscite a vedere Praticamente diventa una specie di moschina ovviamente metallica E questa è la prima Se dopo vado a provare a fare una più rossa Vedete? E ci proviamo Praticamente il risultato è questo Estremamente figo Ovviamente bisogna pescare con una canna extra light Ripeto Su YouTube io non ho visto nessuno pescare Con il cursore Il cursore di una cerniera Ora proviamo con una più grossa E vediamo se riusciamo A giocarcela in maniera diversa Ovviamente Ovviamente Mettete poi le dimensioni che vi ritenete opportuno Io adesso sto giocando con questo Che ovviamente non entra Il bello della diretta Un altro stupendo esempio Di un cursore Di un cursore Che useremo come cucchiaino C'è anche la marca Maver Adesso ne faccio degli altri Ad esempio Di un cursore Senza corpo A modo di cucchiaino Ok Ci siamo Ragazzi miei E ora Vedete I miei giocattolini Adesso Prendiamo il più piccolino Per andare in sediari bassa E poi ci portiamo anche Sempre quello giallo Però più grosso Vedete? E vediamo che con cosa combiniamo La GoPro resta video Grazie a tutti Bello C'è c'è No Sbagliato C'è E ci siamo Ci siamo ancora una volta Non ce la posso Guardate qua L'ho preso Guardate bene Pesissimo ragazzi Pesissimo Guardate qua che bel pezzo E ci siamo Ebbè eccolo qua ragazzi Proviamo Questa cosa qui Sempre con il cursore Senza corpo però Vediamo La GoPro resta video Ci siamo Ci siamo Ed eccolo qui Ma cos'è E bamba Solo full timer pesca Può fare queste cose Tanta roba ragazzi Tanta roba Mi raccomando Se la cosa vi è piaciuta Che culo Like Accendete la campanellina Iscrivetevi al canale Black Con Cursore Ciao